aperto! un doping di doping questo è il mio doping mi dica ma è uscito? è uscito, subito sono uscito e come mai? non è avvezzo a questo gioco? no, mi so fatto prendere della mia aggressività, della mia impulsività quella che mi rovina aveva due donne e non ha saputo e con le donne ci faccio sempre il botto mi dica, mi dica ma l'aggressività in che senso? ha picchiato un concorrente? no, mi sono fatto picchiare con due assi una brutta bestia e qual è stata la mossa sbagliata? i giocalli ah, e perché? se non i giocavo stavo ancora dentro questo comunque basta, niente fotografie parlate con il mio avvocato